La creazione e l'intelligenza divertendosi, è tutta la gente intelligente. No, voi siete la mia... L'attitudine, 45 gradi, 32 primi, 20,97 secondi in nord. Ah no, una meta! Ma nessuno ha qui chiedere indicazioni. Arduino era un nostro amico. Diciamo era perché una serie di circostanze hanno fatto sì che si gettasse contro un treno in corsa. Tutti gli altri movimenti, sia del tronco, sia delle gambe, fino alla punta dei piedi, devono partire dai bianchi ed essere da lì voluti e comandati. Il poeta è sempre stato egoista, ma non è un narcisista puro o non lo dà a vedere. Il poeta scala vette, soltanto per non dover dire che I ama la vita come la regina madre. Il poeta scala veted